Nella sede della regione Abruzzo a Pescara sono stati illustrati i modi a tempi del passaggio della Celta alla Digital Platform che ha permesso di ricollocare i 65 lavoratori in cassa integrazione. La Digital Platforms è la nuova proprietaria della Celta di Tortoreto in amministrazione straordinaria. Dal 2019 l'azienda italiana passa nelle mani del gruppo industriale anch'esso interamente italiano fondato da Claudio Contini e Marco Mennella. Finalmente una buona notizia che riguarda lo stabilimento di Tortoreto per un'avvertenza che si trascinava da tre anni con la mobilitazione di lavoratori sindacati ed RSU. Un risultato possibile anche grazie al lavoro svolto in sinergia con il Mise e la gestione commissariale. Il presidente della regione Marsilio ha seguito tutta la vicenda e l'assessore regionale al lavoro Quaresimale si sono detti soddisfatti di aver trovato un lieto fine a questa nuova avvertenza occupazionale. Abbiamo risolto l'avvertenza Celta con l'acquisizione da parte di Digital Platform, una società importante che non solo valorizzerà tutto il patrimonio tecnologico di competenze della Celta, riassumendo tutto il personale esistente e anzi annunciando una crescita dell'azienda che porterà anche a nuova occupazione. È un lavoro che abbiamo seguito sin dall'inizio, conoscevamo la forza, l'autorevolezza, la serietà dell'azienda, ci abbiamo investito sopra e siamo stati ripagati in questo atto di fiducia da una soluzione positiva dell'avvertenza che fa ben sperare anche per altri tavoli aperti. Quindi sono felice, la regione fa la nostra parte anche in campo di politica attiva del lavoro, se è necessario riqualificare il personale, soprattutto anche a livello di ricerca potremo valutare delle convenzioni con le università abruzzesi per cercare di sviluppare ulteriormente questo sito che sicuramente svolge un'attività molto attuale anche ai fini della transizione ecologica che è molto appunto un tema sentito a livello nazionale. Noi abbiamo già confermato, preso l'impegno e confermato l'impegno di riassumere tutti i 65 dipendenti che ad oggi fanno parte dello stabilimento e abbiamo avviato insieme con le istituzioni locali dei piani per poter gettare le premesse per acquisire nuove competenze digitali e di cyber sicure di cui sentiamo grandemente il bisogno. Grazie.